rimbalzo per secca che apre per paravicini la stoppata di secca che prima riesce a tenere poi fa valere tutto il suo atletismo si chiude con un'ottima giocata difensiva di Magaia secca bravissimo secca ad andare con l'energia rimbalzo grazie a tutti sbaglia Fervis ma rimbalzo di secca trova uno scarico per secca che realizza un canestro molto difficile sbaglia rimbalzo di otto appoggi ma ancora rimbalzo di secca pareglia attacca frontalmente secca difficile lo porta in post basso due traspellate spinta fade away non trova il canestro Magaia prende il rimbalzo in attacco sbaglia ancora una volta controlla nuovamente il rimbalzo spalla per Carberry importante questa sbaglia Carberry rimbalzo di secca secca ancora subisce il fallo con il canestro di secca ma che bello vedere un giovane con questa energia in campo assolutamente sì è fantastico in questo momento cerca secca in post basso contro pesenato c'è spazio per uno contro uno ferma il palleggio secca scarica per Paravicini che non può non prendersi la tripla blocco per liberare secca che riceve in questo momento sempre pesenato su di lui 5 secondi a bravo secca liberarsi con un movimento verso il centro secca è consegnato per giugno